buonasera a tutti amici in myneskin l'altra sera hanno esordito con una nuova canzone cool kids in messico aprendo il nuovo tour loud kids a me è piaciuta molto questa sorpresa qui pochi minuti prima qualche ora prima di esibirsi in messico praticamente rispetto all'italia è un fuso orario completamente diverso praticamente alla sera delle ore italiane ora italiana è apparso sulla storia di instagram un foglio con un testo che sembrava appunto un testo sembrava una nuova canzone intitolata cool kids con la k cool kids i figli oppure i fighetti i figli e la mattina dopo alle sei mi sono svegliato con loro che stavano suonando praticamente dalla parte del mondo più o meno appunto 24 ore al contrario e ho visto i primi i primi video fioccare su youtube su instagram a proposito di questa nuova canzone che è stata presentata come prima volta addirittura in apertura cioè loro hanno iniziato il tour e hanno messo questa nuova canzone mai sentita no che è una canzone praticamente groove punk perché con groove metal con delle con dei riff di chitarra molto semplici molto anche un po più top sempre abbastanza duri ancora meno melodica di mamma mia per dire e hanno deciso di aprire la serata con questo pezzo addirittura prima di zitti e buoni quindi altro che te comandati altro che andiamoci coi piedi di piombo altro che andiamo sul sicuro no facciamo quello che vogliamo cosa facciamo noi iniziamo il tour nuovo in messico e iniziamo con una bomba che nessuno ha mai sentito e che bomba perché praticamente questa canzone qui ha anche un testo piuttosto scurrile se lo traducete bene in italiano però è un testo super figo e io voglio subito dire qui che sto testo qui mi ricorda un sacco l'attitudine che avevano in pantera questi cazzo questi questi quattro ragazzi californiani assolutamente incredibilmente trogloditi e ignorantissimi ma super metal e super bravi nel loro 44 sudisti del texas campagnoli tutti belle donne jagermeister e cappellacci da cowboys questi pantera qui che negli anni 90 hanno hanno fatto quello che hanno voluto e hanno ottenuto successo facendo la loro musica esattamente come stanno facendo i maneschi fondamentalmente no e però appunto i pantera nei loro testi parlavano anche di loro stessi ad esempio ce n'era uno che si chiamava è tutto un album che è quello mio preferito nel 1996 si chiamava The Great Southern Trend Kill cioè il grande suddista che ammazza i trend cioè quello che è il grande suddista che che vi spazza via tutti come a dire no noi dei noi pantera siamo i suddisti anche campagnoli che però spaziamo via qualsiasi trend riusciamo a rivoluzionare il genere musicale perché i pantera avevano anche la missione di rivoluzionare il genere musicale avevano la missione di portare il loro genere musicale cioè il trash e anche questo stoner grosso al dettici delle classifiche tanto che non solo intitolarono il loro penultimo album The Great Southern Trend Kill in questo modo appunto ma intitolavano quasi tutti gli album con un'attitudine con un modo di fare che era molto macio ad esempio Cowboys from Hell erano i loro erano loro i Cowboys dell'inferno saliamo di grado vulgar di spray of power una volgare dimostrazione di potere il loro potere metal e The Great Southern Trend Kill ne abbiamo già parlato e l'ultimo disco reinventing the steel cioè reinventando l'acciaio nel senso il metal il genere metal facendo l'occhiolino a british steel dei judas prised e cosa fanno qui i maneskin praticamente su Cool Kids praticamente parlano della loro attitudine e di come si sentono loro stessi in approccio a tutti gli altri e alla musica e ogni strofa di Cool Kids parla di a mio parere parla di ognuno di loro ad esempio la prima strofa parla di Ethan la seconda strofa parla di Victoria la terza strofa parla di Damiano e l'ultima strofa parla di Thomas raggi la prima strofa di Ethan che noi vediamo sempre come un ragazzo molto composto praticamente descrive invece uno che è molto rude è molto terra terra ed è molto bravo a essere questo nonostante è un'immagine impeccabile la seconda strofa dice che praticamente i ragazzi fanno buon viso a cattivo gioco di fronte a Vic non si mettono mai a nudo praticamente di fronte a Victoria e tutti pensano che sia una bella polastrella ma in realtà sono le belle polastrelle che piacciono a lei la terza strofa parla di Damiano e Damiano dice io dico le cose perché mi piacciono, dico un sacco di cavolate perché mi diverte e voi mi chiedete da dove, di che cosa parlano ma in realtà tutte le mie cose sono inventate e poi l'ultima strofa è di Thomas raggi che dice i fighi amano i comunemente detti fighetti non ascoltano il rock, ascoltano solo la trap e il pop perché tutti sanno che il rock and roll è una merda e fa schifo è una musica rosa da stupidi però noi ce ne freghiamo e siamo solo dei ragazzi che siamo matti per la musica che ci piace un sacco la musica questo è il senso di questo pezzo qui e praticamente se è come ho capito io ogni strofa li descrive veramente molto bene e anche con termini piuttosto coloriti insomma che se in inglese vedete in inglese o in americano li vedete in inglese questi termini sono anche comunemente accettati come bitch però bitch com'è che la traduci in italiano? cagna, troia, troietta? è difficile da capire, da farsi, da mandare giù questa cosa qui poi anche è pieno di shit, è pieno di fuck, è pieno di queste cose che invece vanno un po' come dire vanno un po' edulcorate ma non tanto per eliminare il significato profondo ma perché appunto in inglese suonano molto meglio che in italiano e per farle suonare allo stesso modo bene in italiano bisogna un po' edulcorarle ma senza appunto tirarle via dal significato profondo io ho questa canzone qua veramente quindi a me è piaciuta moltissimo perché l'attitudine è dire come dicevano in Pantera fuck your magazine fuck your magazine the certain certain kill cioè poi che è l'attitudine anche degli slayer cioè è tipo se non vi piace sta roba qua andate a fanculo se non vi piace questo certo, aspetta un attimo se non vi piace questo e voi perseverate a fare certe cose che poi appunto mi piacciono solo a voi ma non in pubblico finisci per vendere meno dischi e ti rovini questo succede ad alcuni gruppi che non riescono a capire non riescono a fare delle belle canzoni le fanno solo per loro stessi continuano a sbagliare perdono sempre il menù pubblico e poi praticamente se li ascoltano in quattro gatti perché sono dei testardi però questo non succede a chi in realtà è bravo a fare musica perché chi in realtà è bravo a fare musica fa delle belle canzoni a priori e siccome le fa per se stesso ma siccome le fa belle praticamente piacciono anche a tutti gli altri e lui è conscio di questa cosa qui è conscio, cioè i Maneskin sono consci di questa cosa qui e hanno aperto con questa canzone e praticamente tutti i fan stavano già saltando al primo ritornello e al secondo ritornello praticamente tutte le fan lì in Messico stavano già cantando Cool Kids Cool Kids anche loro cioè in tre secondi la canzone è stata recepita assimilata e ricantata quindi veramente cioè se non sanno in questo periodo i Maneskin praticamente non sbagliano una virgola non sbagliano niente niente quindi questa è l'apertura del tour e questo è il nuovo pezzo che finirà nel prossimo album non vedo l'ora di sentirlo registrato bene per me loro hanno un'attitudine hanno un'attitudine come come dei appunto io cito il Pantera cito gli Slayer perché sono quelli ma posso dire che comunque l'attitudine è quella di io mi impongo molto molto anche narcisistica molto anche sicura di sé molto macio ricordiamoci che tantissimi gruppi sono stati macio anche per esempio i Cardigan sono stati molto macio come con Gran Turismo erano molto macio l'hanno detto anche loro talmente tanto macio che dopo hanno fatto un album praticamente acustico che si chiama Long Gone by Daylight che nel 2003 praticamente non aveva venduto quasi niente perché erano talmente diventati troppo macio che hanno ricambiato in acustico quindi molti gruppi sono stati macio molto sicuri di sé e in questo momento i Maneskin si sentono in questo modo è giusto così perché fondamentalmente non hanno sbagliato niente fino adesso anzi è stato sempre un gioco a rialzo e questa è un'onda è un'ottima onda in ogni caso loro sanno anche mediare qualcuno ha storto il naso c'è sempre qualcuno che storge il naso quando sente delle liriche così però i Maneskin sono anche questi cioè un mese fa sono venuti fuori con The Lonelyest e adesso vengono fuori con con questa cosa di Cool Kids che è quello che io richiedo che io richiedo che io se fossi un produttore se fossi un gruppo e se fossi e da spettatore richiedo ad un gruppo cioè richiedo che un gruppo riesca a fare delle cose delle cose delicate in un certo modo mirate in un certo modo e delle cose rudi e mirate in un altro un gruppo deve fare di tutto un po' se è capace e se rispecchia la loro personalità perché questo fa di un gruppo un gruppo serio un gruppo serio esprime se stesso ma strizza l'occhio anche al mainstream e se ne ha le capacità riesce a fare delle canzoni come appunto The Lonelyest che è un pezzo che ha conquistato tutti e poi deve fare anche un pezzo che rispecchia l'altro lato ma sono tutti e due lati della stessa medaglia chi si incapponisce come personaggi come Pierpaolo Capovilla che dice io non voglio diventare non voglio che la mia band diventi un brand è fallimentare è fallimentare questa cosa qui è fallimentare perché se tu sei un autore che ha che ha capacità di scrivere una canzone e capacità di scrivere belle canzoni scrivi belle canzoni di tutti i tipi fai successo vendile queste canzoni scrivi le per venderle e cerca di venderle a più persone possibili e cerca di farle più diverse possibili e cerca di farle più belle possibili cerca di accontentare tutti e ti accontenterai anche a te invece chi si incapponisce e continua a dire no io non mi svendo è destinato a fallire chi invece come i Maleskin stanno spaziando a destra e a sinistra sopra e sotto dentro e fuori avanti e indietro ti fa un pezzo come il Lonelyest e poi 20 giorni dopo ti apre il concerto con un pezzo come Cool Kids che è esattamente all'antipodi e questo deve fare una band seria secondo me questo deve fare una band che ha la capacità e la consapevolezza di avere il mondo in pugno questo fa una band questo fa una band non posso prevedere quello che succederà in futuro le carriere abbiamo visto che le carriere delle band sono diventate le più disparate possibili però adesso non stanno sbagliando niente non stanno sbagliando in una virgola le stanno puntando tutte le cose che stanno facendo ciao a tutti amici ciao a tutti